Ciao, un video al giorno. Ti crea tanto benessere, tanta forza, tanta salute, tanta voglia di vivere. La mia intenzione è quella di pubblicare ogni giorno un video su questo meraviglioso canale di YouTube di Olivier Luswardi. Sì, perché c'è un altro Olivier che pubblicherà i video per Olivier. Quello che conta è quello che fai e io voglio fare. Voglio fare tante belle cose quest'anno. Allora mi son detto, lanciati un challenge, fai 21 video di seguito per 21 giorni. Poi mi son detto, perché 21 giorni? Fanne uno ogni giorno per 364 giorni, visto che oggi siamo al 3, sono passati due giorni e dunque farò 366 meno 2, 364 video quest'anno. E dopo questi 364 video voglio vedere dove sono arrivato, che cosa ho creato. Questo è il secondo grande obiettivo. Da una parte, sì, raggiungere il challenge. È un challenge ogni giorno. Io farò un video al giorno, per tutto l'anno. Il secondo obiettivo è quello di arrivare a creare qualcosa di nuovo. Ogni video mi porterà qualcosa di nuovo. E questo challenge, una volta vinto, mi porterà un grande insegnamento e mi porterà da un'altra parte a fare qualcosa d'altro. Allora? Allora seguimi su questo canale, iscriviti al canale. Ci sarà un video al giorno, un video per ognuno di noi, un video anche per te. Sicuramente sei invitato a guardare questi video, ma anche a proporre delle tematiche da affrontare, così che questo canale diventa un po' di più interattivo. Ma tranquillo, se non hai voglia di mostrarti, se non vuoi dire la tua, puoi semplicemente guardare e vedere quello che dico io, che poi chi sono io per inventare qualcosa. Ma non sono neanche d'accordo di dire che io sono semplicemente una sorta di filtro che filtra le energie e quello che gli dicono gli altri di fare o di dire. Hai capito quello che voglio dirti? Forse no. Intendo che ci sono persone che dicono che noi siamo dei tramiti, che facciamo da antenna, recepiamo un'informazione e poi la trasmutiamo, la diamo al prossimo. Facciamo un video, facciamo... Non so, qualsiasi cosa. Però non siamo noi a creare questa cosa. In parte sono d'accordo, ma da un'altra parte non sono per niente d'accordo. perché anche tu, anch'io, mettiamo la nostra particolare essenza unica, irripetibile nel messaggio che diamo. Dunque noi siamo i creatori della vita e non solo dei responder, dei ripetitori, di cose che maestri ascesi, grandi guru o alieni ci dicono di dire. No. Siamo sicuramente collegati, quando lo siamo, con tutti loro, ma noi siamo il collegamento stesso. Allora, a presto, anzi, prestissimo, visto che ho iniziato il 3, ho due video da recuperare. Allora recupero subito facendo un nuovo video che pubblicherò dopo questo, perché adesso non si fanno più 364 video, ma 366. Uno per ogni giorno effettivo di questo anno, biseste. Ok? Allora, buona visione. Haug. Allora, buona visione. Allora, buona visione. Allora, buona visione.